un saluto agli amici della casa la chiave di milano oggi abbiamo fatto una chiave con telecomando per peugeot 207 del 2010 e vola chiave di cliente rotta questa nuova vediamo se funziona apre perfetto chiude ottimo andiamo accendendo il motore e vola alla grande perfetto chiavi peugeot 207 del 2010 fatti in pochi minuti la casa di milano e vola milano casa della chiave number one a a Grazie a tutti. Grazie a tutti.